A tutti, eh Né più né meno Da me, da Liezar e da Liezar Tra l'altro Lo tappo un Liezar, dai Ciao belli, come state? Marco arriva tra poco Che è andato a spacciare Quindi arriva tra un pochino Arriva Ah Eh Sono un po' di novità Parte il gioco, ho cambiato di corsa E poi è ritornato anche l'amico HelloFresh Sì Sì, insolito Ma, c'è un po' da spiegare HelloFresh Cosa? È che da quello che abbiamo capito Per usufruire dello sconto Chi ha già acquistato comunque deve creare un nuovo account Per sicurezza Per supportarci, sì Per se volete supportarci, poi fate quello che volete Sì Perché Anzi, in realtà, no per poterci supportare Per usufruire dell'offerta Credo proprio dell'offerta Quindi Non c'è l'offerta, quindi sì Comunque, punto scambativo HelloFresh In caso di comunque Aspettate domani che domani facciamo l'acquisto Allora, sì Domani mattina Facciamo Ci prendiamo Un 15 minuti Un 10-20 minuti di Di spazio Dopo la rassegna Grazie Rino Ci prendiamo un 10-20 minuti di spazio Dopo la rassegna Per scegliere le ricette Fare l'ordine Così ragazzi Sì, settimana prossima Mi arriva È la videocuscina Eh sì Comunque, per acquistare Basta che andate sul link Quello che ha spammato il bot E lì avete teoricamente Già la cosa attiva Dallo sconto Il giorno è Il 20 quindi In teoria In teoria Il 20 sacca di cucina Non questo Naturalmente Perché se l'ordino domani Non è che mi arriva Per sabato Però Stai zitto D'oglia Che hai rosicato Hai Quindi questa Era la prima Questa era la prima Domani poi Deliniamo tutto Ma ci abbiamo già attivo Se volete fare Punto schermativo HelloFresh Ma c'è già anche Ogni tanto Ogni C'è il bot Di AdverLive Che vi spamma In chat Il link Per Per ordinare Con lo sconto Di 65.000 euro Ragazzi Manciolino Che sarebbe Un 50% Di sconto Per il primo ordine E i due dopo Il 25% Di sconto Che non è male Per niente Cioè con sto sconto Qui è bestiale Ovviamente Se voi acquisate Quel link Ci supportate Sì E poi Oggi che dovevamo fare You suck at fucking No Perché ci hanno detto Ehi Guarda che hai la beta Di C'è arrivata l'email Appena parito È arrivata la mail È arrivata È arrivata l'email Ma io non ce l'ho neanche guardato Ma Sì è arrivata la mail È arrivata E quindi Ho detto Eh Tocca fare For the King 2 Per forza di cose Siamo Alla fine Gli ambassador italiani Di For the King Ragazzi Se non lo facciamo noi Ma che maledetto For the King Biffo E invece domani Rimane Anche qui piove Ma che penso in tutta Italia Domani confermate invece Fortnite Ma alla sera E non alla mattina Perché domani mattina Ragazzi Oltre a far Tornare Dello fresh La rassegna Stonk E così Poi dedichiamo L'ultima parte Della live A riprendere la mano Su Zelda Faccio una live Di Zelda Domani mattina Breath of the Wild Per riprendere È una buona idea Secondo voi Eh Per riprendere Un attimo La mano E Solo tu Vector Solo tu E No Non è buono Lei Ah vedi Beh intanto Apriamo Partiamo Sì è vero Fammi prendere il gioco Intanto Vedo avrò La vostra opinione Perché Non No Eh Ma santo Ce lo moro Vabbè Tu leggi Mister Quest Scusami Non ho capito Forse Devo giocare a Pokemon Forse Sì Per lui O Pokemon O Bast Vediamo la differenza Gra che paura No era per riprendere La mano Tanto il gioco Sarà uguale Un attimo Continue Understood Close Non ho letto niente C'era scritto Di non streamarlo Naturalmente No Teoricamente l'ho letto Non ce l'ha scritto Poi Allora Fatemi un attimo Cliccare un cazzo di cose Prima Che paura L'audio Pi 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 Gameplay Accessibility Italiano E Save Esco Adesso lo riapro Intanto creo la porta La creo già da tre In caso si connette Marco Poi non lo so Ma c'era una parte che si chiama I piselloni Sembrava fatta da noi Ma non ancora creata Insomma ci perseguono L'abbiamo detto anche da un'altra parte I piselloni Ecco qualcuno che ci pisella Allora Fatemi Truccare Qui No Così Il nome E Locatura Vediamo un po' Password Pi 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 Non mi fa mettere i nuvoli giocatori Penso che sia il massimo Sì tanto il massimo è da 4 Stavolta è da 4 Attenzione In teoria dovrebbe essere da 4 Ok l'ho creato Vi faccio vedere Come si fa Termo No Multiplayer Ha connetti con il codice invito Cioè volendo Però mi sa di fare indietro E arrivi avanti Non puoi invitare Non vediamo Per trovarti No Cosa è successo? Ah ho annullato la partita C'è un bastardo Lo sento Crea Vabbè rimasto tutto uguale Ok Andiamo Prendo Steam Sì giallo Invita a giocare Che storia Che adesso si è Non capisco più un cazzo Anche di Steam Che si è aggiornato adesso Fai vedere cosa c'è su Steam Non lo vedete voi Ma Cazzo Note Grazie a tutti Grazie mille E guide Discussi Cos'è guide? Ah Amici Browser web Riproduttore colonne sonore Impostazioni Riduci le finestre Ricons Incredibile Questo nuovo Steam Coso Com'era la password? Ehm Inbo Allora Tie Partiamo Ce n'è una sola Siamo sempre a Farullo Comunque Farullo Tra l'altro riconosco anche la mappa Possibile Eh Vedo come se è la stessa Apprendista Artefici Apprendista Artefici Artista Riserva di vita Zero Città del caos Vabbè Insomma Base Tanto è solo una prova Di fianco cos'è invece Aiuta a liberare L'estranea misteriosa Dalle catene Dalla tirania Che Interversi Su Farullo Compita la valutazione 50 euro Non meno Un luogo sconosciuto Un luogo sconosciuto Va bene Proviamo Ampeggia lo schermo Ragazzi Perché Empty slot Ah Ho fatto io Ma basta Questa chat Non si può levare dalle palle Ecco qua Allora Stallire No Ragazzi È trovato il momento Cosa hanno modificato Aggiunto Boo Boo Allora Il mio nome sarà Naturalmente Sono quattro classi Però Vincenzo Pacco duro No Non mi ci sta Vincenzo Pacco duro Come si chiamava Pacco duro Vector Non si chiamava Vincenzo Vero Era Tony Pacco duro Ogni pacco duro ci sta Vai Stagliere Cazzatone C'è gruppo Posso levare il gruppo Non si può levare Non vedo Allora Cacciatore Cacciatore quello con l'arco Fabro è quello Gemena Studioso è quello Delle magie E stallire Io faccio il fabbro Aspetto pelle Come si dice Che sono pronto Cazzo Aspetto elmo Con la felpa Vai Eccomi Entera Cioè Scaricatelo Scarico subito Ciao ragazzi Ciao a tutti Siamo ancora Guarda che non so Come si fa andare avanti Eh fai Devi cliccare Not ready Ah Ciao belli Adesso vediamo Più che altro Intanto se si Perché mi è uscito tutto Adesso Perché sei uscito Siamo La testa di cazzo Dai Devo rifare tutto Però a me non c'era ready E quello È proprio Stato Devo anche Deremarco E vabbiamo No vediamo anche Se si può entrare In game Avviato Ma che Che gadget hanno dato La Mi hanno dato L'enorme figa Bello Marco Minchia Ottimo La figa di Slendale Ma deve uscire l'Elyther Se no A me non mi vedranno mai Eh sì Aspetta eh Che culo La gomma Ma io non ho ready Ma dove Sei nella schermata Sotto Aspetta Ah un parecchio Un posto Ci sono Parecchio Volevo essere così Secondario Ah No il film Ragazzi è magnifico Il film è magnifico Poi ne parleremo Ne dettagli È magnifico Tupendo Magnificent Vai Sono un gran fabbro Così Allora se io adesso Metto ready Tanto poi Dover rifarlo sicuro Perché non si potrà Entrare Da parte di iniziatra A me dice Due minuti e trenta Eh ci sono Parti gli Elyther Ma ora lo vedo Laggare gli Elyther No come stamattina Non so perché E' la sua super connessione Ah la barba divina Questa è il baggiamento Ah è perché il primo Credo sia le prime Ah no è da scegliere Credo sia Non c'è Punti da spendere Ah cinque punti da spendere abbiamo Dove lo vedi? Sotto Sotto l'elenco Ah qua Ok Agile Più un'azione Secondaria Buona fortuna Guardapealle Una concentrazione Però l'arma c'era Sprezzo Abilità tattica Grazie Vongola Tra l'elenco Ursa con dieci pezzi d'oro Però aspetta Ah no puoi mettere Uno di quelli sopra E poi E poi sotto Eh doglia Sì io sono Veloce tanto Io sono un fanboy Quindi è vero Franci non è Neanche fan E gli è piaciuto Mi devo mettere Tredici d'oro Barba di minchia Ah ma è in comune tra l'altro gli oggetti Quelli che selezioni tu No Io non posso prenderli E vedi perché io vedo Ah beh ecco perché sono Due due Borsa con dieci pezzi Ciocco menta Grima di me Prendo il borsello E Vector in realtà No Cioè Quasi ti direi di aspettare Fino all'ultima partita Se lo stai leggendo Ok Oppure fai come vuoi Ci sta anche che lo leggi tutto E poi ti guardi il film Va benissimo entrambe le cose Mi pianto molto Marco Eh Adesso è un piagnone comunque Due film Si è andato a vedere Pianto due volte Oh non lo facevo da anni Due volte Due film Due volte Questo però è stato A luce Cioè Guardiani della Galassia È stato un'emozione Questo proprio Ciao Cioè Heidelgard La hostessa Cielo quanto tempo ormai Che non si vedono Avventurelli Da queste parti Non si direbbe che sia Trascorso vent'anni Da guarda il cazzo Vero Quella che avevamo fatto noi Chissà Boh Penso che quasi Manca quella mascazione Di Vector Era un'autentica Manna dal cielo Se paragonato ai guai Che abbiamo adesso Che hai fatto Se ne scazzi Doni e fulmini Non sono nulla Al confronto di tutto questo No signore Scusa se abbasso la voce Non so se hai saputo Ma qui a fare Non è tutto rose e fiori La dolce regina Rosamann Ha perso completamente Il seno La gente comune ormai vive nel terrore Che ne è stato Della nostra adorabile regina Au A regina Grazie sdragonus Grazie sdragonus Raggiungi Se vuoi essere d'aiuto Incontriamoci a Pran E ti dirò tutto quello che so Raggiungi a Pran Io ho un problema Col mio schermo Che mi continua A flicherare Ragazzi Ok A finire Si può chiamare Non mi pare Si poteva chiamare così tanto Io non ho visto nulla Di questo fordaking A parte quello che Quel videino lì Non so I morti Sì ma volevo Cacarmi addosso Piuttosto Boh vabbè Propecio ufficialmente Quest'estate C'era scritto Estate Han detto sì Allora Io ho 40 di vita Zero di scudo No Zero cos'era È a livello Lo zero Lo blu sotto Abbiamo L'attacco Lo scudo fisico Lo scudo magico E la velocità Ok E i punti azione Che sono 4 Quindi io posso fare 4 passi Dobbiamo andare in basso Io andrei subito a combat Intanto dobbiamo fare prove Dobbiamo andare di qua Dobbiamo andare Mi sfascia Cosa fate? Mi invitate? Sei dentro? Esce l'adver in live? Sì sì Vedi se puoi invitarlo in qualche modo Non credo perché non c'è un personaggio Te la invito a giocare Prova un po' L'ho accettato in teoria Oracolo Faccio subito Passerò l'esame di domani? Il pene è l'arma migliore del mondo Tienilo presente all'esame Devo mettere una password Aspettavo Mark Ho sbagliato a scrivere No io non ce la faccio Devo vedere che cazzo di impostazione dello schermo è che mi fa cagare Manage party? Ah perché sta entrando Mark Cosa sta succedendo? Ah questo qui è il Credo sia no? Aspetta 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 Che devo fare qua? Cancel No perché non voglio switchare Perché credo sia la posizione Prova a metterti sopra Non posso Però sia la posizione del poi Ah Eh Lieser invitami perché non ho capito Così invi No invi Ah no Inverti personaggi Per poterlo usare te Ah si L'invita Mark Sono contento Sì l'avevo accettato ma mi ha Mi ha detto una cosa strana Mi ha fatto tornare al menu Eh Draco sono contento per te E mo che è successo? Ok c'è Mark adesso Io non vi vedo Io vedo il menu con i serv Con le partite degli altri Però adesso c'è potenzialmente Però posso dargli solo La possibilità di usarlo Quindi probabilmente no Deve crearlo fuori E allora rifacciamo dai Vediamo Quindi devo farlo anche io il personaggio E se dovrò rifarlo anche noi tanto Ah no forse Tanto è una prova Non puoi continuare la partita? Eh non lo so Stiamo Multigiocatore Eh Gibo Appena non ho impegni Un giorno si e l'altro pure Volentieri Lo so Devo attivare il Vsync Se no mi fili che era lo schermo Che cazzo Eh Entrato Pippo Io continuo a vedere Solo la lista server Eccola qui Ma tra l'altro io ho messo italiano Ma è tutto in inglese lo stesso Perché non mi hai riavviato il gioco Ah ok Mi metto lì Mi metto lì Mi metto qui Allora fammi fare Tony Pacco A parte che prima era una donna Palesemente Quella che No faccio lo studio adesso Lascio a Marco Il cacciato Questo cos'è? Cos'è? Faccio l'hunter quindi? Sì Posso quindi essere Ma è una Secondo me è una donna No? È una donna Eh Taglia lì Non c'è il taglia lì Ma credo Ci sono solo quattro classi adesso No è la vita questa Eh Il metto Ok cosa metto? Non posso mettere Tony Pacco Non neanche Pacco duro È sbagliato Bisogna mettere Ecco Clara Sì sì Ne so qualcosa No Ma metti il nome a caso Clara Fagiana Ecco qua Perfetto così Eh I colori Però mi ha tenuto I miei Pupipu E' ridata E' ridata Clara Fagiana Come si Ok Vai Allora No Non sono più Devo mettere Una concentrazione Direi Marco Credo Devo mettere Stratega Presunto E' più che altro Talento Ti dà più Tre Aspetta Questa cosa Ovviamente Devi scegliere Uno Di quelli D'oro Lì sopra Ok Tactical Metto Ci può stare Anche supporto Perché skill support range Cioè guarda Sì guarda a spalle Quello supporto a distanza Sì che era quello Era quello che Era di base Nel ranger Allora metto 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 quello Metto support range Poi scegli qualche oggetto Qualche oggetto Quanti sono? Hai 5 punti Io mi prenderei La panacea Cos'è che Era il No Sanguinamento Poison Bleeding Sì Tutte e due La prendo Una panacea Sì dai Una piglio E te ne usa tutti i punti Tanto Boh Adesso sono a posto così Prendo una radice d'oro Prendi L'armatura Mi prendo anche un guanto Che mi dà critico Più 10 Che il critico Mi sa che mi serve C'è i soldi Sì Anzi Dove sono i soldi Che l'ho perso No sono punti Lì non sono soldi Sì beh Ce l'è in basso Sotto Di viola Punti da spendere A destra c'è il numero Ah ne ho ancora due Prendo Golden Root Basta No Golden Root Via Pronto Eccomi qua Inaspettato eh Adesso vabbè Ildebrand La Mi mancava Ildegard Lei sarà la La figlia di Ildebrand Della Del locandiere Della locandiere Sì che c'era la cosa di Ildebrand Sì ci sta è vero O stessa Ma si dice o stessa E vai avanti tu Liza Che devi far tu mi sa Quel 40 che cos'è Moro Sono i soldi No La salute La salute Sì che c'era sotto Non è un po' randonico Anche nel primo Allora Tocca a me 5 Proviamo un po' di cose Vediamo un po' Di combattere Questo qua Talento Agilità E Cioè velocità E Anche intelligenza Un botto Se no io 43 Credo sia pochissimo 43 43 Io 83 Ho detto 43 Scusate 83 No come così No è il mio Quelli che stai vedendo Lì sotto Sono i miei Hai ragione Hai ragione No io c'ho Visione Che Awareness Scusate Si sposta La visuale Con Le frecce Non posso fare Col mouse Che me Vabbè Vabbè C'è stato Magari Ve l'ha giustato Cosa ho fatto Non volevo Andar lì Più 10ps Più 2 Rigenerazione Aveva più 10ps Di vita totale Punti Salute No Devoted Che inculato Tra curato Vabbè Unlucky Osicinerea Non mi pare Sono aumentati a 50 È vero Sono aumentati a 50 Era 40 Ah ero a 40 Io prima È vero Scusate Vengo lì dove Liezzaro Eh sì Cos'è lì Beh Perché c'era C'è un 1 Sulle pecure Vero E poi c'era anche Un coso inchiavato Lì di fianco Inizia a combattere C'era scritto Taverna Si Engaging combat Ok Passa il turno Ciao ragazzi Buonasera Ah scusate Allora in teoria Marco Ci becca più da distante Adesso andremo a vedere Volevo andare a vedere Vedremo i nostri Grandi tiri Mi metto lì davanti Mi metto lì davanti Vabbè tanto È tutto da provare Venite qua E combattiamo E facciamo la prova Io posso prenderci Missaggio da qua Vediamo un po' La Mandy non Ti segnava fuori Allora Eh Miandante caccone Con un colpo di fortuna Incontro un Menderdott Chator Non mi serve Non mi serve Sciuccia Allora Forse no Forse non è Ti segna fuori Però Eh sì Di un passetto Sono indietro No Sono indietro di due passetti Però No ma lo deve segnare Se Eh infatti Però che strano Scusami Vabbè Ok Vado dal goblin penises Fight No cosa faccio Prova a fare L'imboscata Ecco qua Bravo Iniziamo alla grande Ragazzi Proprio bravo Io l'avevo detto Vedremo i nostri tiri Ecco qua Un grande arceo Ah è vero che adesso C'è anche la Ma perché siamo messi A cazzone di culo Tu sei davanti Giusto Sì però Non è Io sono lontano Aspetta cos'è Questa roba A destra Cazzone Tiro per forza Muoviti Fuggi 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 Pagiarma Saltaculo Io farei uno shot Base Ah sono tutte le mosse Sono Vabbè Figo Adesso si vedono Vedo proprio anche quello che selezioni tu Sì è figo Ah perché allora si differenziano in azioni primarie e azioni secondarie Quelle col quadratino sono azioni secondarie Oh Imp de merda Vabbè è morto praticamente Ora ci sotterà Ora ci sotterà Facciamo un'esplosione Ma dai Ma fai i cazzi Sono bene Mauro dagli una martellata nel buco Allora cosa c'ho io Botta Attacco stordente Non fa danno Provocazione Una bel taunt Ciao rosina Ma scusami ma come secondaria muoviti Muoviti Ah ok Muoviti nel coso Perché io posso muovermi di uno Però posso continuare ad attaccare Perché vedi c'ha il quadratino C'ha Equipaggiare una saltatura Gli diamo una botta Vai Quindi volendo Probabilmente puoi trovare degli oggetti che ti fanno fare più mosse Beh sì Preferivo prima face to face Non lo so Secondo me ci abituiamo facile a questo nuovo No secondo me è molto più carino Così c'è più tattica C'è da dire che si capisce Esatto Si capisce Prima era un po' Era bellino Ma chi attaccherà Quello a destra Quello a sinistra Quello in mezzo Facciamo di più E invece così c'è il positioning Che il tank può avere Anche più senso Effettivamente Oh vedi Se attacco questo qui Prendo anche Marco Ma tocca a me Dov'è l'altro? Posso attaccarlo? No Posso farlo Ando il turno Quello sopra Gli eders Sembra la musica di Karate Kid La parte a Okinawa Eh non prende te qua sotto Eh no Salta il turno E ci vado io Ah quello sopra prende tutti Eh vabbè ma non ha senso Rimani lì e vado io a attaccarlo Ciuccia ciuccia il culo Ciuccia il culo Tre passetti Tre passetti Trovo in boscata Io cosa so Ho 68 io Però faccio così Vedi Porca troia In boscata Ma con la consapevolezza Giusto Io ne avevo 83 Ho fatto 0 Quindi tipo C'era la 10 Dodged Lo scrivo sempre il primo Sono fortissimo Dodge Io l'ho bloccato Allora È un po' bruttino sai cosa Puoi fare un'area blast Il font Il font È tutto l'hv Dei menu Chissà se rimarrà lo stesso Perché è più brutto dell'uno Il menu Eh no Tutti Sì tutti questi menu Vedi sono Oh me non dispiace Cioè non sono fatti bene Però Non sono fatti bene Sono Se almeno si capisce Vabbè anche dell'altro Si capiva Se gli oggetti sotto Sono un po' chiari Effettivamente Solo quando Sono inutili forse No Solo quando Non puoi usare Botta Una botta Oh No Mi è rimasto uno Di culo Ce l'ha con me Ce l'ha con me No con te Posso tenere da botte normale A me il menu così a destra Non dispiace particolarmente Più che altro è un po' No è brutto esteticamente Non è esatto È anonimo Sembra un placeholder Sembra Poi Attenzione Forza 2 è tua Eh la forza è tua Sì Anche questo Anche questo E quindi Passano sempre Ah devo fare io No passa Passa In realtà anche se fai take Ti seleziono Anche in realtà L'arma che Poi Aspetta Allora intanto L'equipaggio Poi fatemi vedere Perché il martello Che voglio Scalava sulla salute Tirava dadi Sulla salute Questo si dà critici Oltre a Tutta la faccenda Allora come apro lo zaino Fammi vedere Io c'ho 84 di forza 86 di vita Però vabbè Andavamo bene entrambi Sì Mi tocca sempre a me No passo Andiamo a menare anche quel perla No vieni giù Vieni Dobbiamo andare sotto Sì vengo lì di fianco a te Sulla tua sinistra Rosa Subito ferma 4 esperienza Il pozzo della perla Questo era il teleport Mi pare You must find additional Alluring pulls To use this Come si inglese Marco Mi fa innamorare Hai visto? Si vede che si è andato a vedere Slamdang In giapponese Tra l'altro Sono andato a vederlo Quindi vabbè Era in giapponese Non era doppiato Sì Perché l'anteprima Era giapponese Quei sottotitoli Han detto che il doppiato È ottimo Comunque Non posso dirvi la mia Perché l'ho visto in giapponese Cernusa Allora Io vado di qua Io gli menerei dentro il buco E mi infilo dentro questa casa Così Ah giustamente le case Mi sto al riparo Ma cosa da ristoro? No non da niente Credo sia un'abitazione Basta questa Però mi riparrà Tipo Mi riparrà Non credo esista Come parola Comunque Mi riparrà Tipo C'erano le robe Con il sole troppo forte Quelle robe lì Ah posso menarlo Questo davanti E prendo tutti In teoria C'è la casella rossa È anche su Moro Che è dentro la casa Provo Se Glyther però Glyther lo piglia Allora vai Anche Glyther C'ha il coso a distanza Allora Riprovo ambush Non è che quelle robe lì Allora la dava tutto il party E l'hunter E l'hunter magari Ce l'aveva di base Ah può essere Punto esclamativo Ello fresh ragazzi Ce l'abbiamo fatto A fargli il bushato Ah tra l'altro Tutti e due Forse li prendi Chissà No Era solo lo sfiga Ah perché con l'imboscata Infatti prima Serviva un cazzo L'imboscata L'imboscata servita adesso Per beccarlo da solo Ecco come funzionava Non mi ricordavo Io provo a fare Pierce Eh sì Memina Ma chissà Adesso lo puoi ordinare Dalla Puglia Memis Perché l'ultima volta L'ho fresh Non Da Roma in giù Non si poteva Eh al Due tiri Non funzionava Eh mi sa che con Pierce Puoi farlo Credo No Forse per l'imboscata Allora Ah forse per l'imboscata Sì Vabbè A posto GG Non lo da Roma Però aspettate comunque La live di domani Per sicurezza Quindi magari Non fatelo oggi Aspettate domani Goldoni Facciamo share Cosa vuoi fare? Ne ho rubati Il lato di merda No io l'ho condivisa Ma magari è una cosa Ma tu ne pensi di più da me Ero io? Eh sì Poi vi faccio condividere Non lo so Posso menare anche lui Ho fatto un errore però Aspetta Però lo scemo Tira via Retri 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 C'è un ragadè Là sopra Uno movimento Vieni più in giù Scemo Eh sì Bella giornata Due di movimento Vieni da me Marco Ti ho uscito da casa Andiamo No di qua A sinistra Ma trombattina veloce Ah sì Ecco qua Ecco qua Vai C'è anche il topo volendo Eh Ce lo fottiamo dopo C'è aragne No non è aragne È un topo No sopra c'era aragne Ah sopra I punti interrogativi Devo assolutamente scoprire Cosa ha detto Eh Tamed è originoso Ma le guardie reali Arresta chiunque Le disobbedisca Di molti Non si è saputo più nulla Ragazzi Io voglio che esci adesso E facciamo La serie serale Più bella del mondo Sì Quando uscirà Saranno mesi Ma io voglio la sera La sera voglio che c'è Alla sera Guarda che comunque Una campagna Ci durava un paio di settimane Saranno magari 3-4 campagne Se magari non la facevamo Tutti i giorni Non mi ricordo No però Comunque Un po' di live Duravano le campagne C'è un confusatacco Guardiola 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 La classica rissa La taverna Ah è quella che era Prima bloccata Andiamo a spaccare Le facce La taverna Dai Dai Doviamo tornare su No per buono caso Sono improvvisamente Arrivano oggi Al molo di Tindersale Un certo Di certo Una nave in fiamma Aiuterà le loro ire Incendia la nave Sì da proprio Cioè ti crea proprio Quella situazione Di comfort La sera Con i suoni Delle locande Le cose medievale Proprio figo Sono i soggetti Sono veramente un gioco C'è una barba divina Qualche soldi C'è una barba divina Doglia tra l'altro L'ha incazzato Da due giorni Non so perché Ma lascialo stare Dove andiamo Facciamo una missione veloce Un sacco salti Sempre Vai a destra Alla nave Un sacco passivo Aggressivo Dir le cose Boh Cattivello Eh doglia 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 Allora Eh non so se Prendono Eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì Eh vabbè Aspetto qui Che me lo succhiano Eh ma facciamo sempre cimbo Abbiamo mai sbagliato Un tiro di movimento Vado a menare E prendo tutti Sì Sì Pam Vai menalo Non serve l'imboscata Vabbè Tanto c'ho 96 milioni Ma perché? Perché è la vaccina Che non va bene Lo sai Ha messo anche doglia Ha messo Allora questo è 12 di vita Vabbè Vediamo se era Effettivamente la mossa di prima O il Più che altro Come No era proprio L'imboscata Che mi fa tirare due volte Oddio Ho sbagliato Ho cliccato due volte Come sentiamo di livello Più che altro È così Salendo Piano piano Due esperienze Vedi piano piano Pli 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 Mi fermo Vai là Vai vatti D'urto Vado là Troppo È un evento no credo sia il taglio presto la tua missione di scoprire lo scadere del tempo credo che conti i turni è veramente la musica che c'è in secondo Karate Kid con la Okinawa non c'è io libero Doglia vabbè hanno liberato Doglia tutti e due usano i soldi per Doglia quindi Rosa e Memis sono rimaste no Rosa non era bannato no è Memis non ancora hanno liberato due volte Doglia c'è ragione posso che faccio in 99 nonostante nell'immobile tesoro mostrami il pene ah si la brucio no abbiamo fatto la modalità facile giocherà solo per provare ecco perché c'è un pittone ho usato tutta la mia concentrazione Queen's Guard chi è? C3PO è la guardia arrivo? la guardia del Queen's e basta fino al turno eh vado a menare la guardia no perché non prendo Moro eh no eh attendo passo il turno eh se non ti piglio non mi prendi? ma sono un trattore con la merda sotto i piedi o magari ti piglio ma non vedo le spalle perché c'è la casetta no non lo piglio ma se lo clicchi non si vede? prova a cliccarlo? no però non mi sa che no no forse non succede niente basta fare shift maiuscolo basta fare shift maiuscolo e prende solo me ma e allora niente alla chi salta il culo e salto il pitto comunque vi ricordo stasera finita la live per chi vuole essere ci troviamo su discord a guardare la partita ma a guardare tra virgolette visto che non si può guardarla perché non la trasmettono sulla tv cioè si la trasmettono sulla tv ma non in digitale cioè non via streaming quindi via streaming la trasmettono solo su prime video quindi se volete la commentiamo e basta la commentiamo e stavo lì ma c'è poi l'Eurovision stasera anche no domani ma è domani? sì ieri domani e sabato sì vengoni è già vengoni è subito sabato vabbè se vado da comunque non io guardate giochiamo a fortnite? no in che stanza? dello sport c'è la stanza vocale dello sport eccomi allora vedi se io faccio combatti non serve fare l'imbosca perché non c'è nessun altro ma io tiro due volte però no eh sì l'unica volta che è cambiata è perché ho fatto l'imboscata non ho mai potuto tirare due volte se no con l'imboscata mi ha fatto fare per due volte e a meno che non è cambiato e c'è anche sta roba adesso perché l'imboscata prima era semplicemente per se nell'area rossa c'è anche qualche altro nemico nella mappa se non fai l'imboscata becchi anche gli altri eh magari è cambiata sta cosina qua eh boh non è toccata ai marco ah devo fare cazzo vediamo se mi fa ritirare no vedi non posso ritirare adesso allora però non c'è armatura magica la magica armatura magica dov'è che c'era scritto la sua armatura? sotto di lui ah sotto eccolo lì taglionetto o schianto su armatura ti dava un vantaggio sui turni anche prima dicono io non me lo ricordo mi fido ah sì? taglionetto fa 5-12 mentre schianto su armatura alla riuscita gli abbasso l'armatura quindi provo provola cagare 3 HP va verso di sì è tutto vera le scritte sono troppo piccole effettivamente mi ha stordito e mi ha tolto metà vita è tutto piccolissimo ok gli ho sfondato l'armatura ah però ho fatto perforazioni quindi gli hai passato l'armatura io provo a fare l'attacco normale c'è set di vita tanto dopo gli azar lo spacca hanno toccato gli azar quindi lo spacca già lui mi immagino su Switch beh ma non penso sia un grande gioco su Switch no beh ma in realtà se sarà così non penso che sia di ha problemi su Switch così se è così è illegibile su Switch come fai? ah per leggere sì sì ma pensavo per girare se su Switch è così è illegibile ma il primo il primo c'è su Switch beh ci giocano a Darkest Dungeon su Switch che per me è ancora più illegibile no Darkest Dungeon c'ha le scritte grossissime Marco che dici insomma come no sì io ho visto non mi ricordo che l'avevo visto dal vivo non è che era proprio il top beh vado a menare o no perché gli azar non lo piglio quindi vado davanti a Moro e gli dico falle non dovevamo andare lì eh menare il tizio non devi andare vabbè tanto sono con te devo andare più a sinestra e quindi andiamo oltre vai a sinistra vai verso la missione che è? aspetta la Switch voglio vedere se livellavamo ma no sono a metà ancora 25-15 eh magari intanto mazzavamo il Pirla no non lo becco lì cosa c'è? macchia di Rauvi metti a prova le tue abilità ma sarà solo una trappola o allora c'ha la vita quindi lo faccio io ma sarà solo una trappola o mi darà qualcosa? c'è uno scrigno quindi eh però non c'ho cazzo puoi prendere un item col 35% 10-15-20 danni ragazzi che bello si pulla vai oh figo adesso è un mimico è buona è buona per me poi c'ha sotto la giacchetta per andare anche in bici stivale armatura resistenza resistenza cazzo è oh che faccio oh come tutta l'armatura te l'ho dato scusa scusa quanta roba aspetta questa però ce l'ho già aspetta visto che sei di fianco a me perché gilea stecchi mi dà più novitabilità meglio che metto quello che mi dà più forza io non ho nulla effettivamente per armatura neanche io mi so ma forse i guanti questo qui mi si potevano gli oggetti? in basso a destra clicchi l'icona dello zaino questi guida te li do a te ah resistenza è quella alla magia io ho preso solo il critico dai ha suscito male dai ha suscito malo ok allora posso vendere lì ah no eh no dobbiamo essere vicino alla sede come è che si dava invece? vai vicino e clicchi sul sul corpo no clicchi sull'oggetto e c'è dai pi popi pi popi pi pi popi pi popi pi popi doveva andare a alla taverna no? sì passandolo da sopra vieni verso dove sono io sì vengo proprio dove sei tu il carcere è pieno cosa è? questa водa è terribile buon NAG No, quanto c'hai tu di cuore? Di cuore C'ho 57, faccio cacare Ma però non puoi usare il culo Vabbè che c'hai No, posso usarlo Se puoi fare esci Che è il 7% della morte Faccio live che per favore Ma me li ha usati i punti No Io vedo 0 Ah perché i passi sono quelli Economia aggiornata Mercati, gild, emissioni aggiornati Tanto se vai sul ragno Prendi anche la vacca bella Sì ma rischio di prendere veramente un casino di gente Io non mi sono curato Ah no però non prendo Ah no perché non sono Amici posso farvi vedere il regalo che mi ha fatto Franci Non me ne frega niente Marco Moro metti un attimo full Le schermate così vedono un po' meglio Eh spero che sei censurato da un buco del culo eh Ecco qua Guarda che bella È rovinata davanti Marco C'ha lo scosso Guarda che bella C'ha lo scosso davanti Marco È stupenda ragazzi È l'Ovon È troppo bella eh Contentissimo È peccato per davanti che è rovinata Sì 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 L'ha presa su Vinted Non lo so forse sì Marco devo assolutamente comprare qualcosa su Vinted Ormai ti ho fatto partire È troppo bella Un trasferativo Vinted Fresh Ehm Imboscati Combattilo Lezzar Non devi fare combatti Che ci combattevamo sette nemici Era figo Ah è vero Quello imboscato lo fa solo a lui È vero Eh vinti Ti era di vita Orca troia Però lo sfondiamo eh Comma Spacchia la faccia sto pirla Ehm Io poi posso fare Posso anche tankare Io che ho sette d'armatura Mi fanno un cazzone Non mi fanno Cinque perti Che A parte che Ma io quanto so lento Scusa che C'ho zero di velocity Vai Taccalo Sì sì Gianluca È bellissimo A parte sono stra contento Tra l'altro in Giappone L'ho cercato ovunque L'uovo nel pupazzo Non l'ho trovato da nessuna parte Chissà se ci sono qualche loot chest Su Vinted Per pullare Moro Non puoi essere così A questi livelli Però dai E oggi mi sono anche scordato Marco di pullare Ho giocato seriamente Come se fosse un gioco vero Ho sbagliato Allora Mica male Ottimo C'è la strega Io farei la L'area Non è più la vecchia merdazza Ci sarà anche la vecchia Meggera Ma si è allungato tutto Quante lunghe quelle zanpe mobili Non si ammosciano quelle del ragno Quando si muore Cosa? Ma è moro cioppa con la legna E' quello che ho fatto Ma adesso L'ammazzo di botte Ma sei Trunks tu Da dietro Mi sono tratto Cioè dalla Non dalla foto Ma dal Dal coso Sei uguale Dai che se gli fai otto La sfondi a merda Nooo Ma è vero che non possiamo usare i punti Mi vinti No E' un botto Tu di punti Eh si Vabbè che tanto sei un'arco Eh adesso vedrai Ecco qua No Abbiamo vinto un quaderno Ma si sarà sicuro Vettor La La sbrodolosa Cazzona Lì come si chiama La flausce La La flauto Di pelle molle Le labbra lunghe Chi va Che passa Gli zoro Che arrivo Allungarmi la bamba Ma mi fermerò qui La stanchia fregna La fregna ricottosa Dobbiamo andare alla taverna Le labbra d'Aison Ma non devi andare alla taverna Sì la taverna con la sinistra però Si chiama taverna C'hai ragione Ci ho pensato dopo Non mi fa andare dentro Ah posso fermarmi solo nella parte prima Che palle Posso curarmi? La sinistra è ancora carnusa Marco stai zitto È crashato il gioco mi sa Perché ho cliccato No Ah no ecco ecco Adesso vi vedo Piano È crashato È crashato Ci ha messo un po' Mi ha fatto vedere qualche frame Ti fa scegliere di prendere il succo del discorso Di Marco È una beta È una beta È una beta Sì Ma io voglio giocarlo per sempre Io spero che duri la beta fino ad agosto Quando io Vai vai combatti Ma vediamo se si può unire adesso che ha il personaggio E adesso vediamo Ho capito Chiudi Poi come faccio? Devo andare da voi Vediamo No Non posso unirmi per un ca Ah unisci di aliezer Sì Tra l'altro Ho portato Raiden Shogun all'80 Ok aspetta vedi vedi Ho potenziato anche l'arma No sei uscito No Io ho accettato e poi mi ha messo in questa lista server Riprova Aspetta Anche it Ah no aspetta aspetta aliezer Senza ha buildato eh Invia Ok Ok Mettigli aliezer Eh no vedi E viene voluta fuori No perché è stato cacciato nel culo Secondo me c'è qualche problema Cioè sta cosa non può Mi rimette nella lista server No Però sembra che vogliono provare a farlo fare Quindi E' figo sta cosa Se riescono a farlo va buono Ok Cacciaglielo nel culo No però vedi Lui non posso spostarlo di là Io non vedo nulla Quindi non so Forse Marco Ah non può Non vedo un ca No io vedo la lista server Quindi Vabbè Andiamo avanti noi Io non potevo spostarlo Adesso E facciamo sta battaglia Poi vediamo un attimo Tanto è tutto proprio Vedere un po' com'è Ma in realtà L'Alpha aveva gli stessi problemi Swell drinella Un'altra birra Mi sa che Non uscirà bene Sto gioco Allora eh Ma cosa state facendo voi Un combattimento Ma a me è rimasto nel menù Eh sì Adesso lo userà Gliedare il tuo Col bici Gere mai Con la perforazione E c'è l'armatura Eh non me lo fa Ok Sì um Ma io sono confuso Sì sei stupido Ma siamo con i pirati di catarri C'era anche nell'uno Quello sgavello Ma mi ha rincoglionito Anche a me Maledizione al culo suo Ci sfondano Regà Ci sfondano Ah tocca a me E ho provato Gianluca Non si riesce Comunque Faccio Faccio Provocation Provocation C'è no picchio 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 le palle Picchio le palle Vai Oh Nei denti Brutto Coglione Scemo Non c'ha più lo scudo Ah mi ha spostato Indietro Vabbè Poi mi sposto Ma Mi sono ancora confuso Ma va Perché eri a destra Tra l'altro Leder Non eri dietro di me Sì Ulix Pim 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 Siamo confondati Pim 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 Allora Ma l'esplosione Anche l'esplosione Ad area comunque Cazzo cambia Esplosione Ah è un'area più grande Non serviva No L'esplosione Non c'aveva Comunque sotto Tre Forse prende solo Solo i Poco di lato Se io faccio Muoviti Non posso selezionare Muoviti Grazie Perché c'ho zero Forse perché ero Rincoglionito Vale Marco Aspetti mi dici se lo pupi al bomber Doglia Ma mi fa solo incularmi Possiamo che doglia Non è sbloccabile Per i prossimi dieci minuti Mi fa È inutile che li scattate Non si sbanna Mi fa fare solo provocazione Pure fallito Perché Ci ha provato Il nostro king Ma è stato Mili solo davanti Ah Eh ma non potevo muovermi Perché ci sono Gli Perché buttandomi indietro Mi ha Si può giocare In quattro Allo spazio c'è Sì sì Quanti sono Da quattro Da quattro È questo Però se io mi sto davanti A uno Se io sto davanti A una persona Non Non mi può buttare Indietro In teoria Ma vedi L'esplosione fa A croce Eh vedi L'esplosione ad aria Fa tutta l'aria Esatto Non lo facciamo così Ma tipo Stavo pensando Se uno è davanti a te Ti dà una martellata Gli Ezar che è dietro Non prenderà mai danno Quindi a meno che Non ha qualcosa Per scavalcarti Teoricamente Sì adesso funziona Quindi L'Ezar è sempre protetto Non credo No teoricamente sì Non mi posso mai più spostare Ma perché io ho notato Che con la freccia Mi pare Dovrei controllare meglio Ogni tanto non potevo Colpirli tutti e due Mi faceva colpire Forse quello davanti E basta Ma dovrei ricontrollare però No puoi bersagliare tutti Ok Ah ok Beh è un po' Una cavolata L'uomo Beh però sì Vabbè Moro dovrebbe Da tank Dovrebbe comunque Tauntare In modo che La solita cosa Come era prima Fondamentalmente Sì anche perché se il taunt sarebbe Completamente inutile Se non basta mettermi davanti Sì 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 Noi pensiamo per un attacco diretto C'è proprio uno con la mazza Di fronte a te Però vabbè ci sta Che non sia così Lezzare ma comunque avete anche La concentrazione da usare Ma io sono fermo Deve fare le azze Che lui ha anche poca vita Ahia Ciro è andato off topic Che ragazzi Ahiaiaiaiaiaiai Ciro è andato off topic Vector Guarda Ciro Ah se non c'ha le barbe sotto No Non è ancora uscito Il 2 Esce Non mi ricordo Quest'estate Quest'estate Ecco qua Vector Eh oh Ah succhiamo All'altro sta bliddando Marco No Dai che c'ho la panarea Non era panarea Non era Ogni volta Marco ma questi playoff Stanno andando bene E che sono contento Eh Kicca Esporta anche quello Ahiaiaiai Eh no ho capito Scusa Questa preferenza Vector mi chicchi Questa preferenza Scusami Eh ma bisogna kiccare il bomber Quindi se adesso Minculo qui No Ban de Marco Qui eh No lo giocheremo in tre Ragazzi Allora faccio così Guarda Ti butto via Questo qua Il capo può farlo Ma che volete Non sono il capo Così poi tu attacchi Quello Che c'ha auto di vita Ah me lo puoi pupare No ma stordito Marco che paura Pensavo fossi decesso Un cesso di merda No sono di carne ed ossa E beh adesso Quello sono opinabile Usagli la barba di cazzo Che non ce la usa Come si chiama Dai Perché per usare la barba divina Sugli altri Dovevi avere un'abilità Veo Ma guarda che lo finiamo subito Il combattimento Lascia fare Adesso vedo eh Vado a vedere un po' Tanto Quello lo uccidevi tu dopo Con quella d'aria Scemo Vedi che ho sbagliato subito Almeno faccio L'attacco diretto Quell'altro Sono troppo bianco Così però Posso fare l'attacco diretto Il culo duro Ma quello nel mezzo lo uccidi Se fai l'attacco a lui 3-8 Sì Per curare tutti Ci vuole cura di gruppo Ok Easy Po 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 Attacca me Buono Fallito Provi di sta cosa Che c'è uno davanti Però non ha senso Sì ma davanti Solo per avere Cos'è me lì E per avere il positioning Io devo fare taunt Per Sì È normale Sennò sarebbe troppo Sì Già Luca Lasciamo perso Ne ho parlato con mia mamma Di quella cosa Di quello sketch Mi ama riso E spara Vabbè Fagli l'attacco perforazione Lì Era questo Franci odia Sia Lundini Che Lino Fra Perché pensavo di curarlo Però Perché non capisce niente Non puoi Non puoi curarlo Ok Mi è andato a cagarsi addosso Per l'eternità Eh ce la dovremmo fare Sì tanto A me a te Fagli l'attacco normale Quello sfondo di botte Nel cervello Usa Usa i punti Però Non ce li ho Ah ma proverebbe Indominare Ecco A me Lino piace molto A cacca È morto Marco Ragazzi No Non è vero Attacca a me Sì attacca dietro Però Cosa ne pensi a di guzza È morto lo stesso È morto veramente Sono morto Ma dai Lascio in mano un attimo La 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 diamoci un taglionetto sa 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 tanca 100 di oro vabbè perchè prendi e passa non posso dividerli ok no me li devi passare a me per fare dividi perché perché gli altri no vedi sono la missione quelli della missione questi sono quelli di uno che vabbè questi allora li prendo io pari di germi a far fare una generazione i soldi spada di germi bella merda e sassaghi o perché ha scritto di sassaghi o non li puoi usare nelle slot ma se io esco che non pullare escono da noi stavo spero che marco ma in realtà ma che non c'è se io esco dal gioco il vino 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 il distillato proibito non lo voglio no non lo voglio è proibito io ho seguito la massa moro succederà il giorno che ponzio non si fa mai più vedere in questa chat ma poverino ma lascialo stare succederà ma cosa poverino che oggi mi ha fatto urlare tante di quelle volte nel gruppo del sub io ma urlare in chat quindi fatto ha scritto con no 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 un vocale ma non banna fire sport ai 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 rector effettivamente fire prima si lamentava di non essere bannato adesso per ma bannato chichino sì oggi mi hanno spiegato marco il il nuovo trend di tik tok di borushan saidai come che era bombastic saidai conosci non c'ero anch'io c'ero anch'io un tanto c'eri stamattina tu ragazzi marco c'era il live stamattina non c'era certo mi ha fatto star wars ragazzi questa cosa mi offende un po' era completamente andato ah era ieri che non c'eri c'è moro che ormai in questa stancetta cosa ormai cosa ormai che ieri eri tu lo stupido eh l'altro giorno mi hai insultato perché io sono pazzo invece il pazzo alla fine eri tu e adesso mi vuoi di nuovo risottomettere al tuo volere smettila che per quante cagate stavo dicendo poteva essere qualsiasi cosa avrei detto di no comunque non sapevo cosa stavo dicendo impossibile salvare il giocatore occupato è all'acchi 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 no perché tanto salva i dischi che sono anni che così teste di cazzo comunque dopo ponzio non ha detto ti mando il tik tok io per farti capire mi ha mandato un tik tok ma scusa dove c'era un cavallo che faceva bombastic saidai e poi gli ho detto ma che cazzo è fammi vedere quell'originale è andato l'originale e c'è una signora che dice bombastic saidai questo non si capisce niente fuori stai molto attento eh comunque ma quello l'avevo capito volevo capire però da dove era uscito fuori non è quello il video della signora che dice bombastic saidai sarà uscito fuori da un dialogo più lungo solo che quel dialogo più lungo non esiste quanto pare cioè vedendo solo quel video non vuol dire un cazzo perché non c'è l'espressione non c'è niente veramente un cazzi casino ma non so un boomer se voi che siete inventate le cose magari voleva scrivere bomber ha sbagliato forse sì forse sì certo viene salutare un po' allora ci vediamo adesso per chi vuole su discord per vedere assieme la partita anche se non si può tanto vederla però dovete avere prime per vederla sarò domani mattina c'è HelloFresh mi raccomando che facciamo l'acquisto di HelloFresh e domani sera con Fortnite sì domani sera Fortnite sì domani sera facciamo Fortnite facciamo le private ci sfondiamo il chiulino io domani mattina purtroppo mi raccomando tu ti siateci no domani mattina ci sono facciamo i complimenti all'Inter no aspetta domani c'è moro perché vince l'Inter domani mattina faccio cioè ci siamo comunque per la rassegna però c'è moro poi c'è qualcosa ma non è mai dolce non saluta prima di chiudere la live c'è offeso eh oh alla lucky ciao belli adori prima adoro